Con un'ordinanza della Polizia Municipale verranno istituiti a partire dalle ore 7 di venerdì 26 fino alle ore 7 di mercoledì 1 ottobre obblighi e divieti ritenuti indispensabili al fine di disciplinare la circolazione veicolare in Viale Regina Margherita e nelle strade limitrofe in vista della Fiera Merceologica di San Michele. Vietato parcheggiare dunque verrà istituito il divieto di sosta con tanto di rimozione forzata lungo tutto il Viale Margherita, Viale Amedeo, tratto antistante alla Villa Omonima e in tutta la Via Chiarandà. Divieto di circolazione veicolare inoltre in Viale Regina Margherita, tratto compreso tra la Via 20 Settembre e la Via Cairoli in entrambe le carreggiate ed ancora su mezza carreggiata del Viale Margherita, Corsia, Lato, Villa Medeo, tratto compreso tra il Viale Amedeo e la Via D'Antona e su mezza carreggiata del Viale Regina Margherita, Corsia a destra a scendere, tratto compreso tra la Via Senatore D'Antona e la Via Chiarandà. Oltre ai divieti di sosta e divieti di circolazione veicolare verrà istituito il senso unico di marcia dei veicoli su mezza carreggiata del Viale Regina Margherita, Corsia, Lato, Agenzia delle Entrate, con direzione Via Senatore D'Antona, tratto compreso tra il Viale Amedeo e la Via D'Antona. In Viale Regina Margherita, dal lato della stazione dei Carabinieri, con direzione Via Senatore D'Antona, tratto compreso tra la Via Chiarandà e la Via D'Antona, ad uso esclusivo dei mezzi delle forze dell'ordine di soccorso e degli operatori presenti in fiera. Ed ancora in Via Niscemi, con direzione Via Salvatore Averna, tratto compreso tra la Via Crispi e la Via Ernesto Vassallo. Divieto di circolazione infine dei veicoli in Via Chiarandà, ad esclusione dei mezzi delle forze dell'ordine, dei mezzi di soccorso, dei residenti di Via Chiarandà e del personale del Dipartimento di Salute Mentale.